Professor Daver, io vorrei partire da lei e le chiedo subito, ma come ancora austerity? Non è bastato tutto quel che ha dato la Grecia e tutti i danni che l'austerity ha provocato in giro per il mondo? Insomma, quello che ha provocato danni in giro per il mondo è stata la crisi che è cominciata nel 2008-2009. Di fronte a una crisi che ha fatto salire i debiti pubblici, qualcosa bisognava fare. La strada che è stata scelta in Europa e non altrove è stata di accelerare il tentativo di rientrare dai debiti pubblici con politiche di austerità di cui alcuni paesi avevano più bisogno che altri e nello stesso tempo però c'erano alcuni paesi che avevano più possibilità di farle di altri. Cioè un paese come la Grecia ma anche come la Spagna che avevano, per certi aspetti anche come l'Italia, avevano gravi difficoltà con l'arrivo della crisi economica e si sono visti esplodere i debiti pubblici, il che è avvenuto ovunque, però tentare di fare l'aggiustamento indubbiamente così in fretta è stato problematico, soprattutto in modo coordinato. Questo non cancella il fatto che prima o poi gli aggiustamenti fiscali devono essere fatti e non ci si può basare solo su una crescita del PIL che in passato è stata molto migliore di quella di oggi ma che forse potrebbe non tornare mai quella del passato. Quindi di fronte, come una famiglia deve tirare la cinghia quando le cose vanno male a quel punto di fatto anche gli stati devono tirare la cinghia a un certo punto. È chiaro che se lo fanno tutti insieme però questo può generare dei problemi per un continente nel suo insieme e questo è quello che è venuto fuori negli anni scorsi. Di fatto da qui in avanti l'Europa deve cercare di pensare a qualche cosa di differente soprattutto di meno cervellotico per le sue regole fiscali che oggi sanzionano o mettono a rischio di sanzione un'Italia che è sotto al 3% e invece fanno veleggiare intorno al 4-5% del deficit Francia e Spagna senza che ci sia ulteriori minacce di procedure sanzionatorie in cui loro sono già. Insomma c'è qualche cosa di un po' strano in queste regole europee andrebbero probabilmente semplificate però la cosa più semplice è tornare al 3% a quel punto che però ha quei problemi che abbiamo visto cioè un paese che viene obbligato a tornare sotto al 3% in un periodo di recessione tende a peggiorare la sua recessione quindi siamo in una situazione molto complicata da gestire e la Grecia ne è solo un esempio. Dicevamo di Weidman che è arrivato in Italia in modo diciamo anomalo perché poi si può discutere chi l'ha invitato qual era il senso e il messaggio della visita comunque siamo a quel che ha detto tra le cose che ha detto proveremo a metterle in fila professor Daveri è che Piercarlo Paduan è un ottimista rispetto alla visione dell'economia italiana e dell'Europa è ottimista Paduan? Paduan esprime un punto di vista che è quello di una persona che ha provato a contribuire al progresso dell'integrazione economica e anche dell'integrazione politica dell'Europa ricordo attribuibile a lui anche la proposta di un sussidio di disoccupazione europeo che è una proposta pesante perché richiede che vengano messe delle risorse per questo e però denoterebbe anche un approccio europeo di fronte a un problema come quello della disoccupazione che sicuramente non è solo della Grecia e della Spagna ma che durante la crisi è diventato un problema molto grave però indubbiamente insomma Weidmann suona alcune note di realismo nel senso che al momento siamo molto lontani dall'avere un approccio europeo nel mezzo di una crisi in cui le risorse sono diminuite e in cui diventa chissà se per sempre o solo temporaneamente ma di fatto adesso è più facile che i paesi come sempre in periodi di crisi guardino prima nel proprio orticello perché alla fin fine si vota con logiche nazionali non si vota con logiche europee quindi sicuramente va combattuta questa tendenza alla balcanizzazione dell'Europa però va capita cioè non si può far finta che non esista e semplicemente si tenti di buttare il cuore al di là dell'ostacolo ecco questo secondo me è l'obiezione principale di Weidmann ai punti di vista espressi da Padoan cioè l'integrazione europea è una cosa importante che deve procedere però nello stesso tempo bisogna anche capire che l'integrazione europea oggi vorrebbe dire che dobbiamo accettare che Bruxelles se ha qualche cosa da dire sul bilancio pubblico italiano lo dica in tempo in modo da poterlo incorporare nel bilancio pubblico italiano quando viene redatto dalla legge di stabilità quindi l'integrazione europea non è un pranzo gratuito non è una festa a cui andiamo e partecipiamo tutti brindando in un momento di crisi l'integrazione europea vuol dire accettare che ci sia qualcuno a Bruxelles che ci dice che cosa fare un po' più che in passato questo siamo disponibili ad accettarlo oppure no quando diciamo che deve tornare la politica e questo è il punto su cui bisognerebbe fare chiarezza perché se non siamo pronti ad accettare il fatto che l'Europa è anche questo, è cessione di sovranità allora è inutile parlare di integrazione europea che deve proseguire Professor Daveri, si è detto ora la situazione è congelata dalla politica economica della Banca Centrale Europea quante armi ha ancora Mario Draghi? in realtà è la situazione del mondo essere congelata dalle banche centrali cioè senza le banche centrali avremmo una situazione molto più complicata e per altri aspetti le banche centrali con il loro intervento alimentano e danno respiro alle borse mondiali che continuano a comprare i titoli bancari dato che le banche hanno nella pancia titoli del debito pubblico il cui valore è sostenuto agli interventi delle banche centrali quindi non è solo la BCE che potrebbe staccare il respiratore a un certo punto potrebbe essere anche la Fed, la Bank of England o la Bank of Japan cioè è la crisi che ha imposto l'azzeramento dei tassi e il quantitative easing non i banchieri centrali questo non dobbiamo dimenticarlo in effetti anche Draghi ieri ricordava che non può la BCE mettersi lì e aumentare i tassi da sola perché causerebbe recessione, apprezzamento dell'euro e tutta una serie di altre circostanze negative quindi questo è il mondo in cui viviamo è un mondo in cui prima o poi bisognerà considerare con attenzione quello che Carmen Reinhardt ha chiamato negli ultimi giorni di elephant in the room del dibattito economico mondiale cioè la ristrutturazione dei debiti che non sono solo la ristrutturazione dei debiti greci ma è una ristrutturazione del debito di aziende private di banche, di stati che vanno oltre la Grecia questo è quello che secondo me più probabilmente potrebbe aspettarci una volta che le banche centrali togliessero il respiratore quindi non sono momenti facili, credo, quelli che ci aspettano Perché è così difficile spiegare, per esempio, agli italiani che già oggi le pensioni le pagano i lavoratori stranieri nel nostro paese? Dunque, una delle difficoltà credo che sia che gli eventuali disagi che derivano dalla presenza di un afflusso di immigrati eccessivo che uno può valutare se è vero oppure no non vengono pagate ugualmente non vengono sopportati ugualmente tra le varie fasce della popolazione cioè che quello che l'immigrazione spesso genera è una sorta di guerra tra poveri ovvero sia gli immigrati si concentrano nelle zone periferiche delle grandi e medie città e quindi le persone che stanno in centro o le persone più abbienti vedono tutti gli aspetti di vantaggio di complementarietà delle cose che dicevate della presenza degli immigrati in una società che è invecchiata e che non ha predisposto gli strumenti per affrontare questo invecchiamento e però invece il peggioramento della qualità della vita delle periferie che ci sarebbe anche senza gli immigrati tende a essere esacerbato dalla presenza non controllata e non governata degli immigrati e con situazioni che rimangono eternamente di emergenza ma che invece dovremmo rassegnarci all'idea che sono permanenti quindi credo che il problema sia un po' questo cioè che è un problema difficile da governare però è un problema anche che se non si distribuisce uniformemente tra tutti ma che viene pagato più dalle persone che hanno magari più difficoltà che sentono la concorrenza dell'immigrazione magari nell'accesso ai servizi sociali ai servizi abitativi e alla scuola è quella che si chiama in gergo una sorta di guerra tra poveri e alla scuola